142 favorevoli 272 contrari 11 la camera approva 14.10 Gianluca Pini se nessuno chiede di intervenire parere contrario del... ah non è segnalato le chiedo scusa ho sbagliato io Pini votazione dell'articolo 14 votiamo l'articolo 14 la votazione aperta articolo 14 chissà perché me lo sono Silvia Giordano ha votato Cominardi bene abbiamo dato tutti la votazione è chiusa presenti 379 votanti 273 astenuti 106 maggioranza 137 fuori 269 contrari 4 la camera approva siamo all'articolo 14 bis che non ha emendamenti e quindi come tale lo metto in votazione se nessuno chiede di intervenire la votazione aperta chi non riesce a votare tartaglione altri turco monaco maglio di stefano a marco di stefano di qua ferranti ok abbiamo dato tutti la votazione è chiusa presenti 373 votanti 301 astenuti 72 maggioranza 151 fuori 297 contrari 4 la camera approva siamo all'articolo 14 terro ho bisogno del parere sull'emendamento prego il relatore favorevole grazie il governo favorevole grazie se nessuno chiede di intervenire sul 14 ter 50 lo pongo in votazione col parere favorevole del relatore del governo la votazione aperta chi non riesce a votare coscia cozzolino altri ben amati altri che non riescono a votare la votazione è chiusa presenti 375 votanti